Il circolo PD Ferdinando Farro organizza per domani, venerdì 25 giugno alle ore 16.30 presso la Sciabica, un incontro per discutere del masterplan per la riqualificazione del litorale Salerno Sud. Poseidonia spiaggiata da rifiuto a risorsa. All'incontro saranno presenti il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, il delegato masterplan litorale Salerno Sud, il vicepresidente della regione Campania e assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola e Piero De Luca, vice capogruppo PD Camera dei Deputati. Credo che probabilmente sarà la svolta più grande che la provincia di Salerno potrà dare per i prossimi dieci anni, perché l'approvazione del masterplan segnerà in esso finanziamenti di grande interesse che dall'aeroporto alle strade di collegamento, al riutilizzo e riorganizzazione dei litorali, credo sia la carta vigente per fare il salto di guida per il futuro. Ed è molto bello che il masterplan sia vissuto anche qui in una logica di collaborazione, quindi enti locali, quindi regione Campania, quindi tutti gli altri interlocutori, ma in un'unica squadra, una squadra del masterplan a lavorare insieme perché tutto questo si realizzi. Ne parleremo in maniera molto compiuta, credo sia un argomento di veramente grandi interessi, di grande attualità e per questo vogliamo vederci qui ad agosto per raccontarvi tutte queste belle novità. Grazie.